Denuncia dopo un affare online, giovane di Canicattia attende ancora l'arrivo di due auto dopo aver pagato 14.000 euro Spari a capodanno, proiettile finisce in un appartamento, nell'Agrigentino Furto nella notte di San Silvestro, portati via quattro fucili e oggetti preziosi a Ravanusa Farmacie di turno, l'osservazione di una cittadina, la replica del presidente dell'ordine dei farmacisti di Caltanissetta, Giuliano Marrocco Villa Medeo, interrogazione del consigliere Aiello dopo un sopralluogo, replica dell'assessore Fran Giamone Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando di una denuncia dopo un affare online Giovane di Canicattia attende ancora l'arrivo di due auto dopo aver pagato 14.000 euro Suona il cellulare, è un messaggio whatsapp pubblicitario, una Nissan Cascai per 10.000 euro e una Fiat Panda per 4.000 Un annuncio che non è passato inosservato ad un rivenditore di auto 21enne di Canicattì L'imprenditore si è messo subito in contatto con il presunto rivenditore e ha concordato il bonifico di 14.000 euro Dopo però, l'uomo ha scoperto che le auto, anche se presenti a Malpensa, non sono mai arrivate a destinazione Inoltre, il malcapitato imprenditore ha scoperto che le macchine erano state vendute da un non dipendente della società Inutili tentativi di qualsiasi tipo di contattare il rivenditore Così, avendo intuito di essere stato truffato, il 21enne di Canicattì ha presentato una denuncia a carico di ignoti La polizia del commissariato di Canicattì, dopo una breve attività investigativa, è riuscita a risalire a una donna romena di 40 anni, residente a Treviso La donna quindi è stata deferita alla procura della Repubblica di Agrigento per truffa online Una ragazza di 17 anni è stata trasferita in una struttura per minori di Caltanissetta Dopo la morte di una donna di 53 anni di bagheria, maestra di scuola elementare Si attende intanto l'esito dell'autopsia per avere un quadro più chiaro dell'accaduto Sconvolta la comunità bagherese, profondo cordoglio è stato espresso anche dai colleghi della maestra Che prestava servizio in un istituto scolastico della provincia palermitana E cambiamo argomento, spari a Capodanno, proiettile finisce in un appartamento nell'Agrigentino Come di consueto, alla vigilia delle festività di Capodanno, le forze dell'ordine sortono alla cautela e alla prudenza Nonostante questo e il divieto assoluto di utilizzare materiale esplosivo e armi Per Capodanno a San Leone un proiettile ha perforato la serranda di una casa Penetrando all'interno dell'appartamento e conficcandosi in un muro È stata questa la traiettoria di un proiettile vagante esploso da una pistola durante i festeggiamenti del 31 dicembre L'episodio si è verificato nel lido balneare di San Leone Uno dei proiettili esplosi è entrato dentro un appartamento nella zona di Viala dei Giardini Poco distante da un hotel Per fortuna il folle gesto non ha avuto conseguenze Perché all'interno di quella casa, in quel momento, non c'era nessuno Sono stati gli abitanti della casa una volta rientrati a scoprire quanto accaduto Sull'episodio, intanto, sta indagando la polizia per cercare di risalire all'arma dal quale è stato esploso il colpo accidentale Che avrebbe potuto provocare una tragedia E ancora cronaca Furto nella notte di San Silvestro Portati via quattro fucili e oggetti preziosi A Ravanusa Si sono intrufolati nell'abitazione nella notte di San Silvestro Approfittando dell'assenza di un commerciante 66enne Per rubare monili in oro e quattro fucili, tutti custoditi all'interno di una cassaforte Ma anche 25 cartucce calibro 12 Così sono stati tempestivamente avvisati i carabinieri di Ravanusa Che hanno iniziato le indagini coordinati dal comando della compagnia di Licata Un analogo furto, circa una settimana prima, era stato messo a segno nell'abitazione di Campagna A Naro di un professionista Anche in quel caso sono spariti fucili calibro 12 Una doppietta calibro 16 E un fucile calibro 20 Armi tutte legalmente detenute E messe al sicuro dal professionista 67enne Non c'è certezza Ma i militari non escludono che la mano possa essere la stessa Nel caso di Ravanusa i ladri sono riusciti Approfittando della momentanea assenza del padrone di casa A entrare nella residenza del commerciante E hanno rubato tutti i monili in oro che sono riusciti a trovare Ma anche ben quattro fucili legalmente detenuti dal commerciante Il danno è ancora in corso di quantificazione E non sarebbe coperto da polizia assicurativa E adesso Polizia Postale di Caltanissetta Il nuovo responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica Sentiamo Sui social la questura di Caltanissetta annuncia il nuovo responsabile La sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Caltanissetta Si tratta del sostituto commissario Massimo Carrubba Che dal 1 gennaio prende il posto del suo predecessore Calogero Butera Quest'ultimo infatti adesso in quescenza ha terminato il suo servizio attivo il 31 dicembre 2022 La Polizia Postale si occupa di prevenzione e contrasto dei reati che riguardano il mondo della rete Sia i reati contro la persona che contro il patrimonio In particolare la lotta alla pedopornografia La sezione nissena ha anche effettuato degli incontri con gli studenti e studentesse del territorio Per informarli sui rischi della rete Sensibilizzare i giovani per un utilizzo consapevole di quest'ultima E parlare dunque di contrasto al cyberbullismo Ma anche attenzione al mondo dei social Nel ringraziare il sostituto commissario coordinatore Calogero Butera Per il servizio svolto in questi anni alla Polizia Postale E prima ancora alla squadra mobile della questura nissena Si legge nel post Facciamo un grande in bocca al lupo al nuovo responsabile della sezione Farmacie di turno Dopo l'osservazione da parte di una persona che vive nella città di Caltanissetta Segnalata la nostra redazione Sentiamo la replica del presidente dell'ordine dei farmacisti di Caltanissetta per l'appunto Giuliano Marrocco Arriva alla nostra redazione un'osservazione da parte di una persona che vive in città In merito all'apertura delle farmacie di turno Nei giorni festivi ed in particolare il sabato e la domenica Ciò che la persona che ci ha contattato ha notato E che una città grande come Caltanissetta si precisa Ha solo disponibile una sola farmacia dove si creano file immense Ad incidere sull'affluenza in farmacia sarebbe il particolare periodo Così come ci spiega il presidente dell'ordine dei farmacisti di Caltanissetta Giuliano Marrocco In questo momento a livello nazionale c'è una presenza di patologie influenzali Che stanno mettendo in ginocchio un pochettino tutto lo stivale Tra l'altro c'è anche un aumento di casi covid Quindi gli afflussi in farmacia in questo momento Sono sicuramente superiori alla media Ma le farmacie riescono a gestire tranquillamente la situazione Certo nei weekend aggiunge Quando ci sono soltanto le farmacie di turno C'è un po' più di file in farmacia Ma è una situazione normale Bisogna avere soltanto un po' di pazienza Dovuta alla connicenza momentanea E poi ancora entra nel merito della turnistica I turni sono stabiliti da un determinato calendario Conclude ma le farmacie che sono aperte di turno Riescono a soddisfare le esigenze della clientela Problematiche inerenti La valutazione e l'assegnazione dei beni immobili comunali Con particolare attenzione ai locali ubicati Allo stadio Marco Tomaselli È uno dei punti all'ordine del giorno Della prossima seduta della quarta commissione consigliare Permanente di Palazzo del Carmine Preseduta da Michele Doro La convocazione per giovedì 5 gennaio alle ore 11.30 È stessa anche capigruppo senza diritto di voto Se non componenti della stessa commissione Polo dell'agroalimentare mediterraneo Parla l'assessore comunale Con delega alla crescita territoriale Francesco Nicoletti Caltanissetta ha concluso il suo 2022 Con l'ammissione al finanziamento Sulla procedura negoziata Dell'Agenzia per la coesione territoriale Del Polo dell'agroalimentare mediterraneo Per la realizzazione del polo logistico ed espositivo Per un importo di 8 milioni di euro circa Il polo è stato concepito come cuore pulsante Del primo parco mondiale Dello stile di vita mediterraneo A servizio dell'intero territorio del parco E di tutti i partner pubblici, privati e del terzo settore Il polo è pensato come piattaforma promozionale e logistica Dell'intera filiera agricola, agroalimentare E enogastronomica del parco Il sito prescelto è quello dell'ex prefacem Bene sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata Trasferito al patrimonio del comune di Caltanissetta In un'area complessiva di 76.200 metri quadri Allocato in prossimità della stazione ferroviaria Incontrata a Xirbi Nodo centrale del sistema ferroviario siciliano All'interno del progetto strategico Del primo parco mondiale dello stile di vita mediterraneo Un intervento importante E' quello proprio della realizzazione Del polo logistico ed espositivo Dell'agroalimentare mediterraneo Che si è pensato di realizzare presso un bene confiscato alla mafia Che è arrivato al patrimonio del comune di Caltanissetta Che si trova accanto alla stazione di Xirbi Una stazione importante nell'asse viario Che da Catania arriva a Palermo Che sarà anche interessato da un'azione di rifacimento integrale E che consentirà di velocizzare l'arrivo E la partenza di persone di merci Vi è stata l'ammissione a finanziamento In una procedura negoziata Con l'Agenzia per la coesione territoriale Che ha ritenuto interessante questo investimento Con una somma di oltre 8 milioni e 100 mila euro Alle mie spalle proprio si trova l'area di Xirbi E' il luogo dove sorgerà questo polo Che è considerato un insediamento Dove si facevano precompressi di giovento armato Che invece verrà restituito alla comunità E che diventerà un grosso propulsore Soprattutto per la creazione di nuovo reddito Nuovo lavoro e nuove imprese E a supporto di tutta la nostra agricoltura di qualità Soprattutto piccola della Sicilia centrale Quindi diciamo il cibo assume una valenza strategica E fondamentale perché viene ricercato dal mondo E noi dobbiamo offrirlo al mondo E quindi questa è una posizione strategica Perché consente di fare sì Che da questo luogo possano partire le merci In direzione degli hub Che poi consentono la spedizione nel mondo Ma dall'altro lato consente anche Dall'altro lato di far arrivare persone Quindi per la parte espositiva chiamiamola così Villa Medeo Interrogazione del consigliere comunale Oscar Aiello E sentiamo anche la replica dell'assessore Marcello Frangiamone Lavori fermi da novembre È Villa Medeo chiusa a tempo indeterminato Lo denuncia il capogruppo della Lega Palazzo del Carmine Oscar Aiello Dopo aver effettuato un sopralluogo fuori Villa Medeo Al fine di sollecitare l'aggiunta Il capogruppo della Lega e il consigliere Valeria Visconti Hanno presentato una interrogazione al sindaco Per sapere per quali motivi i lavori dentro Villa Medeo Sono ormai fermi da tempo E quando riprenderanno Quando è prevista la fine dei lavori E quindi la data di riapertura al pubblico di Villa Medeo Ne abbiamo parlato con il capogruppo della Lega Oscar Aiello E abbiamo anche ascoltato la risposta dell'assessore Marcello Frangiamone Sì, sono stato chiamato ad effettuare un sopralluogo all'esterno di Villa Medeo All'esterno perché la villa è ormai chiusa da diversi mesi Per dei lavori di manutenzione ordinaria e anche straordinaria Peccato però che i lavori sono fermi Ormai mi dicono almeno da novembre Villa chiusa vuol dire che la villa continua ad essere non fruibile E non sappiamo fino a quando Io ho già dato il compito agli uffici di verificare un po' l'andamento dei lavori Valle dei Templi Parcheggio selvaggio, raffica di multe Fenomeno frequente nella prima domenica di ogni mese Quando l'ingresso è gratuito Con le festività natalizie complice a un clima primaverile La Valle dei Templi di Agrigento è stata fra le mete più visitate dai tanti turisti Che hanno scelto la Sicilia come luogo in cui festeggiare la fine dell'anno Per l'occasione è stata intensificata l'attività di controllo Da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale Molte auto sono state lasciate anche in curva Oltre che in doppia fila Sono state settante infatti le contravvenzioni Che gli agenti della polizia municipale Hanno elevato per violazione del divieto di sosta Lungo la via passeggiata archeologica Diversi controlli inoltre sono stati fatti anche al Viale Alberato Lungo Contrada Sant'Anna E sotto il Tempio di Ercole Dove sono state riscontrate auto parcheggiate in modo irregolare E' una situazione che si ripete spesso Sottolinea chi conosce bene la zona Soprattutto in occasione della prima domenica del mese Quando l'ingresso alla Valle dei Templi è completamente gratuito E adesso parliamo del baratto amministrativo a Petralia Soprana nelle Madonie A Petralia Soprana adottano il baratto amministrativo Grazie al quale i cittadini meno abbienti Potranno scambiare con una propria prestazione di utilità sociale Il mancato pagamento di tributi già scaduti L'istituto votato all'unanimità dal Consiglio Comunale Introduce la possibilità di corrispondere con una propria prestazione di pubblica utilità Invece che con il pagamento del tributo Uno strumento di inclusione sociale e di coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita del Comune Ad aderire potranno essere sia i contribuenti che le associazioni Entrambi volontariamente per sanare i debiti maturati fino al 31 dicembre 2022 La prestazione non inferiore a 600 euro per nucleo familiare iscritto al ruolo non ancora regolarizzati Baratto consisterà in prestazioni che potranno essere o interventi che riguardano la pulizia La manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade Oppure interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale Di aree e beni immobili inutilizzabili E in genere la valorizzazione di una zona limitata del territorio urbano o extraurbano Individuati dall'amministrazione comunale o proposti dai cittadini stessi Sarà attivato così un partenariato sociale tra il Comune, i cittadini e le associazioni Che conterrà le regole di realizzazione del progetto Per accedere all'istituto sarà necessario possedere i requisiti riportati nel regolamento approvato Soddisfazione espressa da parte del Sindaco Macaluso Che vede nel baratto amministrativo la possibilità per chi non riesce a pagare Di azzerare con grande dignità il proprio debito attraverso il proprio lavoro La prossima settimana per consentire l'esecuzione di lavoro e gli impianti tecnologici Lungo la carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19 Si darà corso a chiusure notturne in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo E quanto si legge in una nota dell'ANAS Nel dettaglio e nelle notti comprese tra lunedì 9 e mercoledì 11 gennaio L'autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Villabate e Bageria Nelle notti comprese tra mercoledì 11 e venerdì 13 invece L'autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Altavilla, Milic e Trabbia In entrambi i casi l'itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 settentrionale Sicula Torniamo a parlare di saldi in Sicilia Sono appena iniziati i saldi in Sicilia e mentre le vetrine indicano le percentuali di sconto applicate in negozio Le famiglie cominciano a fare i conti con le spese da affrontare A decidere come spendere e soprattutto quanto investire in queste settimane per effettuare i propri acquisti Sono giorni attesi dai commercianti per incrementare le vendite Ma anche dai clienti che vanno a caccia delle occasioni per poter comprare qualcosa di più o meno necessario E rimpinguare armadi e non solo Anche se facendo riferimento ai dati dell'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori Solo il 24% delle famiglie italiane comprerà qualcosa Si legge nel comunicato di Feder Consumatori Sicilia Con una spesa media per famiglia di 178,60 euro In calo del 3% rispetto ai saldi dell'anno scorso In Sicilia probabilmente, si precisa, queste cifre saranno ancora inferiori Visto il potere d'acquisto dei siciliani notevolmente sotto la media nazionale italiana Nonostante il periodo di forte crisi economica Si pensi ad esempio al caro bollette O anche all'inflazione che ha ridotto di molto il potere di acquisto delle famiglie nissene I saldi sono comunque una buona occasione per poter sostituire magari un capo usato O anche fare un acquisto di utilità Per questo motivo è utile comunque mai, come in questo momento forse Seguire delle regole che sono più che altro del buon padre di famiglia Ossia non fermarsi al primo negozio Confrontare i prezzi con gli altri operatori del mercato Vedere il prezzo prima del saldo e dopo il saldo Per confrontare che realmente ci sia stata una riduzione del prezzo La normativa di settore tra l'altro in questi momenti si è anche evoluta Recependo una direttiva europea E introducendo delle normative di favore per i consumatori Quale ad esempio l'indicazione del prezzo degli ultimi 30 giorni Tale indicazione non vale però, si ricorda, per gli acquisti dei prodotti agricoli Ed anche per i beni deperibili E anche per i prodotti che sono nel mercato da meno di 30 giorni Si ricorda comunque a tutti i consumatori che laddove dovessero ravvisare Dei comportamenti scorretti da parte dei commercianti O comunque dei comportamenti ingannevoli È possibile rivolgersi agli sportelli della Feder Consumatori Che sono attivi su tutto il territorio della provincia di Sena Ed operano anche durante queste feste Nel comunicato stampa Feder Consumatori Sicilia Fa anche riferimento alle differenze di prezzo Tra le vendite in negozio e l'e-commerce E al monitoraggio dei costi dei beni anche prima degli sconti Fare questa cosa però oggi è sempre più difficile Si legge ancora Perché i prezzi dei prodotti cambiano in continuazione Con oscillazioni anche a due cifre percentuali Se parliamo di negozi online Massiccia presenza di pubblico In occasione del concerto di Capodanno Al Teatro Comunale Margherita Ieri sera si è tenuto il concerto di Capodanno Al Teatro Margherita di Caltanissetta Dinanzi ad una platea ben cospicua Diretta dal maestro concertatore Raimondo Capizzi La giovane orchestra Sicula Ha deliziato la platea nissena Con le sinfonie di Verdi, Strauss, Schubert Bellini, Puccini, Montalto e Bizet Presenti al concerto anche il coro Dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Palermo E la corale polifonica Renzo Chimmici Settima edizione quest'anno Abbiamo iniziato appunto già sette anni fa A così rivivere l'atmosfera del concerto di Capodanno Con la giovane orchestra Sicula Un'orchestra sinfonica del centro Sicilia Quindi tanto tanti artisti Tanto un gran livello Quindi è un progetto molto vivo Che vede appunto la partecipazione di tanti musicisti Un viaggio fantastico all'interno del magico mondo della savana Tra riflessioni, storie, racconti che divertono Fanno sognare ma anche danno lezioni di vita Per la prima volta proda anche a Caltanissetta Il musical Il Re Leone Con gli artisti del Cuore di Argante Regia di Giuseppe Spicuglia Lo spettacolo in programma lunedì 9 gennaio alle ore 18 Al Teatro Regina Margherita È il primo della sezione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie All'interno della stagione teatrale e musicale Svelamenti Promossa dal comune di Caltanissetta Assessorato alla cultura Seguendo la trama del famoso film d'animazione Firmato da Disney Anche sul palcoscenico del Teatro di Caltanissetta Il giovane Simba Vivrà emozionanti avventure Grazie anche all'aiuto dell'amica Nala Compagna d'infanzia Per la quale affiorerà un sentimento d'amore E adesso calcio Nissa Benivegna e Guadagnoli pronti al debutto contro il Casteldaccio Domenica al Tomaselli Continua la campagna di rafforzamento in casa Bianco Scudata Che nei giorni scorsi ha perfezionato gli acquisti del difensore Pietro Benivegna E del centroavanti Giuliano Guadagnoli Che prendono il posto dei partenti Hernandez ed Ortiz L'attaccante classe 2002 originario di Favara Ha completato la sua formazione calcistica Giocando prima con l'Under 17 della Lazio E successivamente nelle squadre primavera di Salernitana e Cagliari Prima di approdare a Caltanissetta Il giocatore ha vissuto una breve parentesi al Nereto in Serie D E poi con il Misilmeri e il Castel Termini in eccellenza Ho accettato questo progetto perché è un progetto molto di prospettiva È una squadra storica con una grande storia davanti Con un grande tifo È una piazza che secondo me farà molto bene in futuro L'ho accettato subito La squadra c'è, siamo un gruppo molto unito Uno spogliatoio molto, ci aiutiamo uno con l'altro E secondo me possiamo fare molto bene Benivegna, centrale ma all'occorrenza terzino I tifosi biancoscudati lo ricordano bene Essendo andato in rete al Palmindelli Con la maglia della Mazzarese contro la Nissa È una grande piazza E hanno un bellissimo progetto E mi hanno convinto a venire Quest'anno speriamo di arrivare ai play-off Poi un altro anno vediamo Puntiamo a salire Insieme con la Nissa, iniziativa della società biancoscudata Rivolta ai ragazzi delle scuole calcio cittadine Sentiamo i dettagli nel servizio Finalmente, insieme Nasce in città la sinergia per contribuire a realizzare il sogno di tanti giovani nisseni Le scuole calcio di Caltanissetta si ritroveranno infatti per la prima volta Domenica allo stadio Marco Tomaselli E abbracceranno la Nissa Maggiore espressione calcistica del capoluogo Con un solo obiettivo La collaborazione Tanti ragazzi riempiranno il maestoso impianto In occasione della prima gara del girone di ritorno del campionato di eccellenza Che vedrà opposta la Nissa al Casteldaccia I giovani atleti si presenteranno alle 14.30 davanti l'ingresso dello stadio Per poter entrare tutti insieme E qualche minuto prima della partita faranno un giro di campo Per periunirsi sotto la tribuna mostrando uno striscione con la scritta Insieme si può con la Nissa L'iniziativa nasce da un incontro dal direttore generale della società biancoscudata Vincenzo Cancelleri E i rappresentanti delle scuole calcio cittadine Natale Ferrante dello Sport Club Nissa 1962 Salvatore Cataldi New Team Caltanissetta I fratelli Fabrizio e Valentino Fama Football Caltanissetta Gianluca Italia CL Calcio E Antonio Lopiano Caltanissetta Socher Bene, era questa l'ultima notizia per oggi Non ci sono ulteriori aggiornamenti Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale Intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità E come sempre grazie per averci seguito Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni Per la giornata di mercoledì Che nel complesso vi dirò sarà discreta in gran parte Italia La pressione atmosfrica resta relativamente alta sul Mediterraneo Fino ad arrivare anche all'Europa orientale Siamo solo lambiti da un po' di correnti umide occidentali E quindi se controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese Si troviamo ancora degli annuvolamenti Soprattutto nel centro Italia e poi parecchie umidità in pianura padana Ma grandi cose non capiteranno E quindi anche come precipitazioni praticamente nulla da segnalare Giornata tranquilla, magari qualche gocciola di pioggia al mattino Ancora tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana Quindi in definitiva Ci attende un mercoledì come vi dicevo Più che discreto nel nostro paese Qualche nuvola di passaggio ci sarà Ma senza grandi conseguenze In pianura padana ce l'ho però più grigio Fino ad arrivare anche alle coste adriatiche Per la presenza di molta umidità Che genera foschia anche dense e numi basse Nelle ore pomeridiane Magari qualche timida schierita anche qua si farà avanti Per sapere comunque nel dettaglio Come andranno le cose da voi Anche nei giorni successivi Consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Marrocco Via Rosso di San Secondo Servizio notturno Pantano Via Don Minzoni